Grazie a tutti Esistono momenti particolari in cui il disagio sociale cresce di pari passo con l'insofferenza, l'indignazione, la protesta. Il sentimento popolare si fa ostile e si concentra su un solo aspetto, quello più vistoso ed immediatamente aggredibile, gli stipendi dei politici. In momenti simili, chi governa dovrebbe sentire come naturale il dovere di mandare al popolo un segnale netto, immediato, privo di equivoci. Stravincendo le elezioni regionali, con il suo molise di tutti, Paolo Di Laura Frattura aveva creato grandi aspettative, che tuttavia si sono scontrate con la realtà. La sanità affonda, Zuccherificio, Solagrital, Arena, ITR non trovano via d'uscita, le piccole e medie imprese scompaiono, gli esercizi commerciali chiudono, l'Italia del Nord schiaccia l'Italia del Sud e l'Europa gioca a lotto con i parametri di stabilità. Con alluvioni, grandinate e siccità sempre in agguato, all'appello manca solo una dichiarazione di guerra al Molise, con tanto di invasione territoriale. Combattenti di terra, di mare, dell'aria! Questa è la regione che Paolo Frattura si è trovato ad amministrare. Pochi vorrebbero essere al suo posto e meno di pochi saprebbero cosa fare. Ma lasciando da parte il Presidente e la sua Giunta, impegnati su così tanti fronti e in mezzo a tante difficoltà, una grande occasione per dare un segnale di buonsenso, anche minimo, i consiglieri regionali l'avevano avuta, ed era la riduzione delle indennità. Telemolise non si riconosce in quel genere di populisti che di solito fa ingresso nella storia nei momenti di grave difficoltà economica e complica ulteriormente le cose con lo spettro dei patiboli e delle ghigliottine, una massa senza volto che cerca il colpevole a tutti i costi. Tribuni improvvisati che vorrebbero quantificare gli stipendi altrui al posto delle leggi, masanielli che si dedicano all'ingiuria quale occupazione alternativa al nulla. Tutti ladri, tutti corrotti, tutte prostitute, un disco incantato che a lungo andare nemmeno impressiona più. Non ci riconosciamo in questi cultori dell'agitazione fine a se stessa, eppure si è persa un'occasione unica per mandare al popolo un segnale di solidarietà. Rinunciare a una parte dello stipendio e poter dire «vedete, anche noi abbiamo fatto un sacrificio», condividendo così, anche solo simbolicamente, lo strazio di questo territorio. Al contrario, i consiglieri regionali hanno mandato un segnale in senso opposto, nel senso cioè dell'arroganza e della strafottenza, come uno schiaffone in pieno viso al popolo affamato, lo stesso popolo al quale si chiedono altri sacrifici con l'aumento delle tasse regionali. «Vergogna! Vergogna! Vergogna!» «Ridono alla faccia del popolo! Ridono! E lo credo bene con quello stipendio, signora Busco!» i titani della politica. Un errore strategico di tale portata non l'avrebbero commesso mai. E allora, l'attuale classe politica sarà ricordata da tutti per questa disinvoltura ai limiti dell'illusionismo, un gioco di prestigio, allegro e sofisticato per arraffare anche l'ultimo centesimo. Lo abbiamo già detto. Uomini piccoli piccoli. Come piccoli piccoli sono quegli uomini che, di fronte alle indagini in corso sulle spese ridicole, scandalose, qualcuna letteralmente oscena, rendi contate dai gruppi consigliari con i soldi pubblici, di fronte alle indagini della Corte dei Conti, della Guardia di Finanza e della Procura, se la sono presa con Telemolise che ha divulgato la notizia. Lasciando arrivare a questa azienda, un giorno sì e l'altro pure, messaggi di ostilità e simpatiche minacce. Se tra le spese rendi contate figurano pranzi e cene per nulla istituzionali, discoteche, amanti di lusso, casino, gioielli, lap dance e rimborsi per attività personalissime, come risulta dalle informazioni in nostro possesso, dove peraltro si evince che le spese più folcloristiche sono da ricondurre ai consiglieri regionali di centro-destra, non importa quello che farà la Procura. È un problema etico che andrebbe affrontato chiedendo scusa ai molisani e consegnando le proprie dimissioni. O anche questa sarà un'occasione mancata. Balena Bianca, la nostra, la vostra Balena Bianca, ricomincia da questa sera per il decimo anno consecutivo la navigazione negli oceani che sono sempre più in tempesta. Buonasera amiche e amici di Moby Dick, ovviamente l'editoriale di Emanuele Apetescia, che risale a qualche mese fa, nel corso era piena estate, l'abbiamo riproposto perché sembra attuale e perché introduce l'argomento di questa sera che riguarda i costi della politica, ma non solo, riguarda anche le prospettive di rilancio di questa regione. Non vogliamo continuare, come dire, a evidenziare cose già note, vogliamo affrontare con i nostri ospiti le soluzioni possibili per ridurre anche i costi e per rilanciare lo sviluppo del Molissi. Vi presento subito gli ospiti, il senatore Giuseppe Astore, buonasera senatore. Abbiamo portato anche un avvocato, e che avvocato? Esperto tributarista, l'avvocato Pinuccio Biscardi, buonasera avvocato Biscardi. E con noi il consigliere regionale di maggioranza, Rialzi di Molise, delegato alla programmazione dei fondi europei, alla programmazione in generale, Vincenzo Cotugno, buonasera ingegnere Cotugno, persona notoriamente, come gli altri ospiti, calma e tranquilla, quindi si può fare un ragionamento, meno calmo e meno tranquillo forse nel consiglio regionale è il consigliere del PDL Nicola Cavaliere, buonasera Cavaliere, è uno dei pochi, possiamo dire, che in questo momento fa opposizione. E poi un ospite che ha una storia particolare, che interverrà ovviamente anche sulla discussione generale, è il dottor Vittorio Nola, che è presidente del Consorzio di Polizia di Venafro, ma questa sera sarà qui anche come ex numero due della Telecom, che ha vissuto parecchi vicende personali abbastanza problematiche. Peppina Sole, parto da lei, ovviamente se non altro per rispetto delle anzianità, io e lei qua in mezzo siamo i più anziani, io e lei, siamo i più anziani. A proposito dell'editoriale di Emanuela, voglio solo dire, tranquillizzare, qualcuno avrebbe potuto e qualcuno forse ha inteso male già quando andò in onda la prima volta, non è assolutamente diretto contro i grillini, non solo loro, gli agitatori del popolo, almeno i grillini, il Movimento 5 Stelle di Molise, persone tranquille, pacifiche, che fanno le loro battaglie e le loro battaglie con l'educazione, forse con troppa tranquillità, aggiungo io. Quindi, anzi, per servizio il Movimento 5 Stelle è stato assolutamente valorizzato rispetto alle iniziative che hanno fatto sui costi della politica in Consiglio regionale. Astore, anche al Senato, dovremmo aprire un capitolo, anche al Parlamento, i costi della politica erano eccessivi, forse qualcosa avete fatto con il Governo Monti nella passata legislatura? Io credo di aver partecipato intensamente al dibattito, soprattutto sulla 174. Del resto ricordo che se in Molise i consiglieri sono diventati 20 e nel Lazio 50, ciò dovuto al Ministro Patroni Griffith, all'intensamento del sottoscritto, e devo dire anche con correttezza, dell'assenso dell'allora Presidente Iorio. Abbiamo lottato, abbiamo anche fatto delle leggi che vanno al di là, secondo me, della costituzionalità, perché sono ai limiti proprio, la 174, forza molto, alcune volte, l'autonomia regionale. Ma comunque io vengo a noi, perché io credo che... Nell'imporre il numero dei consiglieri. Nell'imporre determinate cose, anche se la Corte di Cusciano l'ha riputato legittimo in nome di un risparmio di interesse reggerale. C'è stato una forzatura. Però il problema è il servizio che ho visto e che mi ritrovo in toto, insomma, al di là di ogni populismo. Io credo che innanzitutto abbia perso Michele Iorio queste elezioni, non l'abbia vinta l'altro in maniera serena. Vi parla uno che non deve chiedere a nessuno l'appartenenza... L'altro si chiama Paolo Frattura, per far capire. Lei lo può anche nominare. Vi parla uno che non deve chiedere l'appartenenza al centro-sinistra. Mi pare che sia stato fondato con anche la mia iniziativa nel 1994, quando l'allora mio partito, che mi sono sempre onorato di appartenere, si è diviso in due, in un sistema bipolare. Io credo che la gente si aspettava ed è rimasta delusa dai primi movimenti di questa giunta e del Consiglio nella propria interezza. Un Consiglio che non ha affrontato, ha rispettato certamente il 174, siamo seri, ma nei limiti massimi, caro Cotugno, del 174. Nessuno accusa di aver violato la legge, poi diremo dopo. Ma il problema era di fare una riflessione, come è stata fatta a Roma, di ordine generale e di andare ad adeguare, soprattutto per la salvezza di questa piccola regione. Noi siamo una regione, vi diranno dopo gli esperti i dati svimez, ma un dato allarmante è quello che diminuisce continuamente la popolazione. Ci dobbiamo veramente allarmare su questo, oltre che la ricchezza. Allora il problema è di adeguare gli emolumenti che ci devono essere, magari legandolo anche a qualche premialità, alle presenze, alle cose, non lo so, poi se ne può discutere in questo, in cui si doveva partecipare l'intero Consiglio regionale. Non è nella maniera più assoluta tollerabile, secondo me. Ma come si fa a fissare un rimborso speso uguale per tutti, da chi viene da 150 km e così via, come si fa a fissare l'adeguamento statistico all'inflazione, ai propri stipendi? Io credo che un momento di riflessione seria, è già iniziata una legislatura precedente per la verità, con la diminuzione del 20-30%, non lo so, attestarsi a metà classifica nelle regioni, crede che poteva essere la scelta giusta. Ma quello che è grave è anche il problema dei gruppi regionali, di cui abbiamo sempre parlato. Ne pareremo un attimo. No, no, ma io lo voglio dire prima, senza mezzi termini e con un invito formale alla magistratura. C'è un allarme di ordine sociale in questa regione. Bisogna chiuderlo. Perché non bisogna mettere sulla graticola chi non è colpevole. Io credo che vada assolutamente chiuso questa indagine, perché io credo che questi sono i tipici comportamenti che allarmano un po' quella comunità, che gigantiscono anche alcune volte i reati e così via. Io credo che sia iniziata prima questa indagine. La magistratura che sta facendo certamente il proprio dovere dovrebbe assolutamente chiuderla per poter riniziare una vita serena. Ma si continua in questi comportamenti. La vicenda dell'Udeur, e chiudo, non è una vicenda interna all'Udeur. L'ottima consigliere Lattanzi ha posto un problema di ordine generale. Cioè è tollerabile che un presidente del Consiglio faccia anche il capogruppo. Non è incompatibile dalle norme... Non lo so che non è incompatibile. Io parlo di incompatibilità di ordine morale, di ordine politico. Ma è tollerabile che uno faccia il controllore, il controllato di se stesso? Io credo che questa signora ha posto il problema e credo che il Presidente della Giunta, il Consiglio, la propria interezza, debba assolutamente risolvere. Ricchiudo, questi problemi non possono essere appannaggio di un gruppo di consiglieri, di maggioranza o di minoranza. Questi problemi, è il classico problema istituzionale che deve essere affrontato dall'intero Consiglio. Ognuno si deve assumere la propria responsabilità. Nessuno può giocare sull'altro, sia di maggioranza sia di minoranza. Io credo che questo deve essere... Perché la politica deve recuperare il dialogo con la gente. Perché oggi chiunque, chiunque gira, al di là di certe situazioni di ordine personale nostro, ma chiunque gira, si accorge della solitudine che vive il politico in mezzo alla comunità. Allora, o si recupera questa fiducia per poter poi affrontare i problemi, che nel Molise sono tanti, sono seri, è inutile elencarli, insomma. Ma non si può, io che ho allottato Iorio per 15 anni, non si può affrontare, scusate, ma ditemi che cosa è cambiato in rapporto a prima. Io dico che stiamo in una fase di neoiorismo, scusatemi, passatemi il termine. La GAM si affronta allo stesso modo, lo zuccherificio si affronta allo stesso modo, gli enti regionali non sono stati riformati in niente. L'onorevole Di Pietro, mio grande amico, il mio ex presidente, che doveva togliere la polvere sotto i tappeti, mi pare che questa operazione non è stata assolutamente fatta. Io credo che dobbiamo rinsavire, chiudiamolo questo capitolo dell'indennità, del quinto assessore, sono sei mesi che stiamo perdendo, e andiamo avanti affrontando i problemi dell'intera comunità, riordinando anche questa regione. Perché ho sempre detto, alla festa della regione, l'ho detto, caro Biscardo, lo ripeto qua, non è vero che piccole non possiamo esistere. Perché ho sempre detto che gli stati americani, ci sono i piccoli che sono spesso più ricchi della California. Dipende da come vengono gestite. Però ognuno deve adeguare alla propria realtà, che è una realtà di 320 mila abitanti. Avvocato Biscardi, noi dobbiamo ribadire per forza di cosa, anzi se c'è l'ausilio di qualche tabella sugli stipendi dei consiglieri, poi non ne parliamo più, lo prometto, ma dobbiamo ribadire quali sono gli importi, prendiamo a riferimento due figure, quella del consigliere semplice e quella di un consigliere che ha una identità minimale, da capogruppo, presidente di commissione, da 750 euro. Ecco, qui vediamo una busta paga di Antonio Federico che è riferita al mese di agosto, dove, ecco, queste sono le cose che hanno fatto arrabbiare molti i molisani e che abbiamo scoperto, cioè, sull'imponibile che è dato dall'indirnità di carica di 6.000 euro più 750 indirnità di funzione, è stata applicata, io credo, erroneamente, perché diversamente dovremmo pensare davvero a male, una trattenuta del 43%, questo ha portato a pagare tasse maggiorate di 2.900 e passa euro, provvisualmente, perché poi vanno a rimborso in fase di creazione di redditi e uno stipendio netto, se scendete un attimo più in basso, non lo vedo, comunque, me lo ricordo a memoria, era di 7.000, non lo vedo, era di, questo è Antonio Federico, era di 7.800 euro, circa, netti mensili, 7.800 euro, passando alla busta paga di settembre, sempre di Antonio Federico, dico, è l'unico, è uno dei pochi, la mette in rete, si è fatto il calcolo giusto delle trattenute, cioè, sono state fatte per aliquote, per cui, automaticamente, le tasse, l'imposta diminuisce di 600 euro e il totale aumenta di 600 euro e quindi, Antonio Federico, capogruppo, indirnità di funzione, 750 euro, arriva a percepire 8.400 euro netti mensili. Il consigliere semplice, invece, è passato, c'è Manzo, Patrizia Manzo, credo che c'è la busta paga, è passata da 7.300 euro, è cavaliere che il consigliere semplice lo potrà testimoniare, a 7.000, da circa 7.400 a 7.800 euro netti mensili e sono nei limiti della legge Monti. Lo voglio ribadire, diceva bene Astore, il problema è, primo, se quei limiti sono esatti e poi ci dà anche un suo parere su questa alchimia che è stata fatta, credo erroneamente, della tassazione e secondo, che a questi importi si stanno ancora oggi sommando 2.450 euro di articolo 7 in realtà portaborse che non sono previsti nella legge numero del 25 luglio numero 10 ma è una vecchia legge regionale. Allora a lei, Avvocato, la domanda è questa, è legittimo ancora l'articolo 7 erogarlo con quegli importi e in quella maniera? Allora, guardi, se mi fa partire prego, dal generale perché sennò poi sembra questo problema dell'articolo 7 sembra il simbolo di tutti i mali in realtà non è esattamente così bisogna partire dall'impostazione normativa che è stata data dal decreto Monti e dalla legge regionale per poi arrivare alle figure simboli. Allora, il decreto Monti, l'articolo 2 del decreto 174 convertito in legge 213 del 2012 è chiaro cioè dice che le retribuzioni le spettanze dei consiglieri regionali sono articolati in tre tipologie in tre voci l'indenità di carica il rimborso spese per l'esercizio del mandato ed una voce eventuale l'indenità di funzione che peraltro nella nostra regione credo che non spetti solo forse non so se a Nicola Cavallera a tre persone lo spettano lo dico io a pochissimi consiglieri perché diciamo a chi spetta la interrompo un attimo aspetta a tutti i capiglupo che sono 14 e poi c'è qualcuno che ovviamente avendo la doppia ne prende quella migliore ovviamente ai quattro presidenti delle commissioni all'ufficio di presidenza vicepresidente segretari agli assessori e ai due vicepresidenti del consiglio quindi ne mancano tre solo tre e sono Nicola Cavallera appunto la Lattaggio e Patrizia Manzo che non hanno l'indenità di funzione benissimo allora queste sono le tre voci tipizzate in aggiunta a questa tipizzazione tanto la legge nazionale quanto la normativa regionale di ricevimento quindi la legge 10 del 2013 sanciscono il principio della onnicomprensività cosa vuol dire? vuol dire che al di là di queste voci tipizzate dal legislatore nessun altro emolumento perché la legge non a casa d'opera questo termine come dire generale nessun altro emolumento può essere percepito dal consigliere regionale o dall'assessore regionale o dai due presidenti precisato questo e i tetti i parametri massimi sono fissati in base a una normativa a una come dire a una procedura per la realtà piuttosto bizantina si è rimandata la conferenza stato-regione la regione più virtuose eccetera va bene si è stabilito che le regioni più virtuose prevedono un trattamento economico lordo onnicomprensivo se non vado errato i 13.800 per i due presidenti i 12.100 per i consigliere regionale qualunque altra voce di remunerazione o retributiva che oltrepassi questo tetto è una voce ad oggi non erogabile non so se se mi sono spiegato facciamo l'esempio del fondo portaborso fondo portaborso è stato erogato nel mese di agosto a parte chi ha sospeso ed è stato erogato in violazione del decreto in violazione della legge regionale il decreto Monti prevede delle sanzioni però ci arriviamo ci arriviamo va bene allora prendiamo questo esempio dei tetti massimi qualunque altra voce comunque denominata sarebbe da considerare erogata contro la legge mi spiego se viene previsto io poi non conosco tutta la legislazione regionale magari c'è qualche altra piega nel sistema no non ce ne sono altro mettiamo che vi siano 500 euro di rimborso per il consigliere per aggiornamento professionale faccio un esempio non può essere più ad oggi non sarebbe percepibile 1000 euro di rimborso al consigliere regionale per il danno esistenziale procurato dal fatto che la frenesia della vita politica lo allontana dagli apprezzamenti non può essere danno familiare non sarebbe erogato stesso discorso per il fondo portaborso il principio qual è? tutto ciò che non è rimborso a piedi lista di spese effettivamente sostenute deve rientrare nei parametri massimi fissati dalla legge regionale quindi questo è il problema che abbiamo oggi di fronte l'articolo 7 nel momento in cui prevede la possibilità di una non rendicontazione delle somme erogate e di una esenzione dall'imposizione fiscale di queste somme costituisce a tutti gli effetti un emolumento che è al di fuori del perimetro applicativo del decreto però qualche consigliere regionale osserva noi con quei 2450 euro oppure io al singolare dice qualche consigliere pago i miei collaboratori per farmi assistere nell'attività legislativa ma questo può fare parte di una successiva eventuale regolamentazione dell'istituto non so se ho reso l'idea nel momento nel momento in cui il legislatore prevede una somma a disposizione del consigliere no adesso sto parlando del cosiddetto dell'articolo tra l'altro è espresso nebroneamente così perché un fondo per l'assistenza all'esercizio del diritto in iniziativa questo dice la legge nel momento in cui questa voce è articolata con queste caratteristiche la non rendicontazione e l'esenzione dall'imposizione poi l'uso singolo che ne fa il consigliere dal punto di vista giuridico non so se mi seguite è rilevante cioè rimane comunque un emolumento che poi uno nella sua generosità nella sua sensibilità sociale decida di come dire da andare incontro alle esigenze di giovani collaboratori oppure decida di intascarlo non cambierebbe nulla cosa diversa è se vi fosse una regolamentazione ad hoc però magari poi ne possiamo parlare anche dopo si vorrebbe il problema della compatibilità con le spese previste per i gruppi consigliari diciamo per chiudere questo primo intervento il punto essenziale è questo il decreto Monti e la normativa regionale di ricepimento fissano dei tetti onnicompensivi che come correttamente ricordava il senatore Astore tra l'altro l'ufficio di presidenza della regione Molise su delega del legislatore regionale ha fissato ai parametri massimi se non sbaglio i due presidenti i due presidenti stanno a 300 euro in meno qualcosa del genere 600 euro in meno i presidenti 600 euro in meno lordi i consiglieri 10 e 5 11 e 100 13 e 5 credo parliamo di cifre lordi lei può già capire da questo importo lordo un'aggiunta netta di 2400 squilibri a tutto ovviamente sarebbe come dire un superamento assolutamente non controvertibile dei parametri di legge anche perché quando parlavamo di stipendi parliamo di stipendi netti noi abbiamo sempre sommato perché l'articolo 7 è ancora in vigore è stato pagato ad agosto verrà erogato sicuramente a settembre stanno facendo i conti in questi giorni significa che per tornare agli esempi di prima ai 8400 euro dell'inderità minima di un capogruppo di un presidente di commissione più 2,5 arriva a 11.000 euro scarsi netti il consigliere semplice come cavaliere dai 7.800 euro arriva a 10.300 euro netti con il fondo dei cosiddetti collaboratori va bene? per fare chiarezza per fare chiarezza non ci trova a cavaliere? se posso fare una piccola aggiunta scusami ovviamente da questo ragionamento che faccio io se è un ragionamento esatto ma insomma a me sembra voglio dire di difficile discutibilità ne discende giuridicamente l'abrogazione delle voci aggiuntive quindi deve essere abrogato non è che le leggi le norme in Italia possono essere abrogate in due modi l'abrogazione espressa cioè è abrogato l'articolo tot della legge tot l'abrogazione per incompatibilità il fondo portabuzze ma non il fondo portabuzze qualunque voce aggiuntiva a quella prevista dalla legge regionale che disciplina la materia è una voce aggiuntiva abrogata perché incompatibile con il sistema ma lì c'è stato anche un emendamento poi votato anche da una parte del centro-destra se ricordo bene o da tutto o da tutti presentato dal Movimento 5 Stelle che chiedeva l'abrogazione è stato bocciato dall'aula l'abrogazione espressa avrebbe eliminato qualsivoglia dubbio ma in ogni caso non cambia la sostanza allora fatta chiarezza sui numeri mi risulta che lei poi risponde dice quello che vuole che lei già da tempo non sospette la prima rima di maggioranza che discuteva nell'articolo 7 era tra quei 3 o 4 forse 5 consigli di maggioranza che proponeva di abrogare l'articolo 7 recentemente ha proposto di modificarlo forse in rapporto a quello che diceva pure Biscardino di regolamentarlo anche andando oltre la proposta nerofrattura che prevede comunque una regolamentazione allora rispetto a questo in che direzione marcia la maggioranza? l'articolo 7 noi riteniamo che vada regolamentato e regolamentato in modo preciso che significa che deve essere pagato direttamente dal consiglio regionale attraverso una rendicontazione che può essere di consulenze che può essere di incarichi non deve andare a finire né sul cedolino né nelle tasche del consigliere regionale credo che il consigliere che non ha la possibilità di avere uno staff da parte della giunta regionale come assessore credo che sia molto importante che possa disporre di una assistenza tecnica giuridica per l'esercizio del proprio mandato ma al di là dell'articolo 7 io farei un passo indire sul sole 24 ore di qualche giorno fa io ho estrapolato quali sono i veri costi della politica cioè noi stiamo rischiando di fare tutta erba un fascio e di fare demagogia spicciola che quasi ci vergogniamo chi fa politica quasi si vergogna di essere un amministratore di questa regione soprattutto i veri costi della politica il sole 24 ore che lo dice noi l'abbiamo detto anche in altre sedi e in altri tempi sono l'inefficienza e i costi della pubblica amministrazione sono una tassazione troppo elevata sui cittadini e le imprese soprattutto sulle imprese mancanza di infrastrutture scarso utilizzo e impiego dei fondi comunitari basta vedere che in Italia ci sono residui dei fondi comunitari della programmazione 2007-2013 di ben 30 milioni di euro per tutte le regioni d'Italia default della sanità pubblica vedi il caso America socializzazione delle perdite di aziende private nel nostro caso ITR Solagrital e compagnia bella il mancato taglio di endi e società basta dire che dal 2008 le leggi vietano la costituzione di nuove società partecipate nonché il taglio di quello esistente e puntualmente regioni province comuni hanno rinviato senza mai applicare la spending review relativamente a queste società per esempio le società Ex In Vitalia basta vedere la campagna porta perdite per un milione e 600 mila euro con 60 dipendenti l'Abruzzo che ha messo in liquidazione la sua società e deciso di vendere addirittura i tre incubator che ha il Molise meglio per modo di dire degli altri però perde solo 200 mila euro all'anno e ha ben 27 dipendenti la precedente amministrazione di cui io non facevo parte già ha cominciato senza 147 ha cominciato e ha fatto dettagli non indifferenti io direi 174 di circa un 30% come ricordava giustamente il collega Cavaliere ma la cosa molto più eclatante se vogliamo l'unica regione in Italia che ha tagliato i vitalizi in corsa il buon Errani nell'Emilia Romagna che è quella avvitata come la regione è più virtuosa gli ha sì tagliati ma dalla prossima legislatura tutte le regioni ma sempre dalla prossima legislatura il Molise bisogna dare atto agli amministratori della precedente legislatura che si sono tagliati i vitalizi direttamente loro questo non è da poco e va sottolineato dobbiamo specificare su questo poi continua lei direi la tabella perché credo che ci sia stata molta qualche incomprensione le indennità di carica con l'indennità di funzione mettono l'Emilia Romagna quale la regione più virtuosa alla seconda regione questi sono dati ufficiali c'è il Lazio che però ancora non dice quanto è l'indennità di funzione al terzo posto in Italia c'è il Molise ma per pochi centesimi prima dopo il Lazio quindi sicuramente noi siamo la regione al secondo posto per quanto riguarda le più virtuose però io le faccio un'osservazione su questo lei sta dicendo numeri corretti ma 4.500 euro di rimborso esentarsi di indennità di rimborso spese data a tutti per una regione piccola come il Molise non regge non regge per me che vengo da Venapro probabilmente non regge sì però lo hanno fatto un po' tutti per semplificare e tutti hanno fatto da 4.500 cioè addirittura la Calabria per 6.000 euro per esempio gli altri 4.500 4.500 cioè il Molise non è che si è inventato questa cosa il tetto massimo imposto dal decreto Monti è 5.500 euro appunto di rimborso noi siamo rimasti a 4.500 poi per quanto riguarda invece le indennità credo che sia impreciso dire che sono aumentate perché prima della riforma c'era un totale lordo che andava da 11.840 a 12.140 oggi è 11.250 il netto è aumentato ingegnere il netto non è aumentato il netto è aumentato glielo dimostriamo con i numeri se vuole 8.500 era prima da 8.500 a 9.000 oggi è 8.400 no ecco ha ragione allora senza l'articolo 7 bravo senza l'articolo 7 qui casca l'asino senza l'articolo 7 ovviamente siamo leggermente inferiori ovviamente però io da osservatore esterno verifico l'articolo 7 è stato erogato e sono d'accordissimo con quello che diceva l'avvocato allora abbiamo chiarito l'articolo 7 va regolamentato non può essere d'accordo un ulteriore appannaggio al consigliere assolutamente va regolamentato se lo si vuole dare se si ritiene che possa servire per l'istituzione perché è ora un po' di finirla io sono un imprenditore il politico ma chiunque lavora e se il politico lavora lavora e ne ha da lavorare va remunerato per quello che produce siamo d'accordo per quanto produce siamo d'accordissimo io credo che i molisani non sarebbero scesi in piazza a manifestare contro se noi avessimo avuto il tempo per dare risposta ai cittadini molisani con soluzione ai problemi dei cittadini molisani e quindi non è un problema di quantum se Marchionne piglia 5 milioni di retribuzioni all'anno ma ha salvato la Fiat benvengano non 5 ma anche 10 milioni all'anno questo è un ragionamento che solo uno come Vincenzo Cotugno può fare oggi non abbiamo visto soluzioni per la verità e poi ci arriviamo io ritengo che invece bisogna guardare a quando il consigliere regionale produce produca produca fermo rezzando che oggi il presidente Frattura dichiarava con i numeri alla mano che in soli 6 mesi abbiamo risparmiato ben 6 milioni 6 milioni di tagli sono certo di questo e il presidente Frattura credo che abbia un solo torto quello di comunicare poco il grande lavoro che sta facendo nel tagliare i costi soprattutto nel tagliare i costi perché di costi basta vedere i soli enti regionali che noi abbiamo trovato ne contiamo ben 40 in una piccola regione come il Morise state prevedendo una riorganizzazione non stava in maggioranza io non capisco questo discorso non stava in maggioranza stava al tavolo con Iorio a fare queste cose scusa sinceramente siamo seri siamo tutti insieme credo che il consiglio regionale era all'opposizione ma stava anche il suo partito ma confondiamo le leate non è stato dicendo dal 2011 in poi il paragone non stiamo parlando di questa legge era il caldo anche il presidente senza senza tutto il rispetto per tutti per carità oggi c'è un elemento da fare che è la chiarezza è un elemento la verità senza dare colpa e responsabilità guardiamo avanti io non parlo dicendo la colpa è di no oggi noi dobbiamo guardare avanti come fare per salvare questa regione perché si tratta di questo caro bisogna salvare l'autonomia della nostra regione e non è una cosa né semplice né facile per cui ci sono argomenti che i cittadini molisani io credo che è pur vero che fa clamore alla piazza il problema dell'indennità ma non è quello il vero problema il vero problema è la mancanza di lavoro e poi ci arriveremo e ci arriveremo sicuramente se parlate un po' di meno tutti ci arriviamo Piscardi solo un attimo dobbiamo andare in pubblicità e poi cavaliere molto velocemente ricollegandomi a quello che diceva il consigliere Codugno proprio le ultime parole relativamente anche all'affermazione del presidente della regione ci tengo a precisare che questa tesi che ho esposto prima dell'onnicomprensività e del divieto di voci aggiuntive rispetto ai detti onnicomprensivi non è che l'ho esposta solo io l'ha esposta in più occasioni il presidente dell'aggiunta regionale del Moise in un'intervista al Fatto Quotidiano dichiarava di propendere per la tesi dell'abrogazione dell'articolo 7 in una risposta a non mi ricordo quale esponente della sua maggioranza che proponeva l'abrogazione diceva non fare populismo perché l'articolo 7 è già incompatibile col decreto Monti in un'ultima comunicazione in un'ultima comunicazione non un'intervista quindi in un'unica comunicazione da lui mandata alla stampa ha ritenuto addirittura questo fondo questo cosiddetto fondo fuori legge no no fuori legge fuori legge a questo punto io mi sorge anche il dubbio quando l'ingegnere mi parla di regolamentazione io ho come dire un dubbio di tipo concetto come facciamo a regolamentare una cosa che non c'è se parliamo di introdurre ex novo un qualcosa per agevolare quindi va abrogato comunque espressamente quell'articolo no questo è un altro equivoco se è già abrogato esatto quello sostengo allora scusi a dimostrazione a dimostrazione definita questo è un profilo di natura esecutiva diciamo ma ci sono profili di illegalità allora diciamolo cioè pagare l'articolo 7 ogni voce che si aggiunge ai parametri del decreto è una voce indebita diventa illegale ma scusi cosa lo dimostra una delibera dell'ufficio di Presidente del Consiglio di Giorgione che ha abolito il rimborso chilometrico no scusi no mi faccia finire ha abolito perché superavano i libidi massimi quindi hanno dovuto abolirlo e allora cosa vuol dire questo perché giustamente Vincenzo 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 prende quanto prende Cavaliere a Campobasso se il rimborso chilometrico è stato ritenuto un emolumento aggiuntivo che in quanto tale andava a valicare i limiti ma vogliamo che non sia la stessa cosa per una voce come il bonus portaborse che oltretutto non ha neanche un collegamento diretto con una spesa effettiva perché io riconosco che giustamente il consigliere che viene da Venato o quello che viene da Montenero sopporta delle spese quindi è una dimostrazione palese che tutto ciò che si aggiunge ai tetti dobbiamo solo osservare prima di fermarci poi magari mi da lei una leggera breve replica subito dopo la pubblicità poi Cavaliere che i 21 consigli regionali a parte gli assessori l'ufficio di presidenza le commissioni che hanno le segretarie particolari da 5 a un collaboratore con le strutture un attimo un attimo a storia che hanno già e poi ci sono i gruppi conciliari che percepiscono l'importo corrispondente a un dirigente a un funzionario di categoria di 6 per ogni consigliere attenzione tra l'altro questo importo con la nuova legge è aumentato e è passato da 3.200 euro a 3.700 euro al mese per ogni consigliere erogato a gruppo allora l'osservazione che si fa sono state dimezzate le spese dei gruppi sono state dimezzate ci arriviamo alle spese dei gruppi sono state dimezzate ma pure là ci sta un'altra cosa poco chiara che poi vedremo poi mi replica dopo pubblicità la detrazione fiscale del 50% la qualità dei materiali l'accuratezza della progettazione la precisione nella posa in opera con gente che impianti il fotovoltaico il mini eolico sono la vera soluzione per il risparmio di famiglie e piccole imprese Gentec Impianti impresa elettrica a servizio completo è partner tecnico di indiscussa competenza impianti antifurto videosorveglianza domotica automazione realizzazione e manutenzione di impianti complessi a servizio di grandi strutture sono da 20 anni la nostra passione Gentec Impianti nuova sede nella zona industriale di Ripa Limosani Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sannio La gioielleria Setaro ti offre la più alta valutazione del tuo oro usato in contanti e in permuta le nostre offerte fino a 36 euro al grammo oro 1000 tutto senza nessuna sorpresa gioielleria Setaro la nostra forza è l'esperienza di 25 anni di attività via 24 maggio Campobasso SORGENIA l'energia sensibile Allora il leggere Cotugno ha risposto sostanzialmente se vuole aggiungere qualcosa lo può fare su questa prego la regione Lazio possiamo inquadrarlo ecco ristringiamo sulla regione Lazio il 15 di ottobre sì per ogni consigliere ha dato 5 portaborse cosiddetti con una legge aggiuntiva aggiuntiva a quella di ricevimento certo certo ancora non quello che si è sottolineato però c'è solo e anche lei lo ha sottolineato prima di procedere il consiglio regionale è autonomo a decidere fatti nuovi e cose nuove bisogna procedere dall'abrogazione dell'articolo 7 no? credo che questo è importante però io direi che la gente vuole molto di più dalla politica non c'è dubbio questo è lo ha introdotto e adesso lo raccogliamo glielo dobbiamo dare lo ha già introdotto se no a livello generale adesso andiamo a procedere Nicola Cavaliere lei si è opposto ha chiesto anche lei l'abrogazione dell'articolo 7 allora rispetto a questa proposta oggi si continua a discutere chi lo vuole regolamentare chi lo vuole abrogare c'è anche chi lo vuole mantenere così com'è diciamola tutta insomma ci sta la possibilità oggi in consiglio di creare una maggioranza trasversale per abrocarlo davvero l'articolo 7 ma guardi vorrei fare qualche precisazione io do una colpa esasperante a questa maggioranza relativamente a questo ragionamento dell'indennità dell'articolo 7 perché se si arriva ad una a dei movimenti di cittadini e poi anche su questo ho qualche riflessione da fare ma credo che successivamente nei prossimi giri ci sarà anche un modo per poter fare qualche riflessione e arrivare ad una sommossa diciamo civile cosa che non era mai successa in consiglio regionale al di là di quelli che erano i fermenti di maestranze di aziende che stavano in crisi e che venivano in consiglio regionale per far ascoltare la loro voce i loro problemi con tanta dignità il problema delle indennità e dell'articolo 7 questa maggioranza è come se a un tavolo giocando a carte continua a bleffare di giorno in giorno perché lei era presente a tutta la la riunione del consiglio regionale del 22 luglio 25 25 22 e lei avrà modo di ricordarsi quando nel pomeriggio il consiglio regionale è stato sospeso per molto tempo per oltre 4 ore perché la maggioranza sul mio intervento chiese la sospensione e si ritirò per discutere sull'articolo 7 perché era più volte preso in esame anche con la presentazione di un emendamento del movimento 5 Stelle questo è un altro passaggio che lei è sfuggito questa sera al rientro del ripristino del consiglio regionale la maggioranza presentò un ordine del giorno e lei votò conto che era un modo come per dire l'articolo 7 non c'entra nulla in questa operazione della 174 ma io non lo dico per accusare sto facendo una breve con la storia bene e in quella situazione fui l'unico a votare contro creando verso di me le ire del presidente Frattura dove ci fu un battibecco tra me e lui dopodiché c'è stato un confronto serrato tra alcuni esponenti della maggioranza il presidente Frattura lo ha citato non mi ricordo prima mi sembra il senatore Asture dove si accusavano reciprocamente sulle modalità e sui comportamenti dell'uno e dell'altro rispetto all'articolo 7 ci sono state ulteriori prese di posizione a favore io non ragiono su quello che può essere l'elemento individualistico rispetto alla decisione o meno ma non è possibile non è concepibile non è auspicabile non è giusto e non è corretto che all'interno di una maggioranza dove la stessa maggioranza ha votato e non solo la maggioranza anche quasi tutta la minoranza è vero ha votato all'unanimità un ordine del giorno dove si diceva che l'articolo 7 non rientrava nel ragionamento dell'indennità complessive e dell'onnicomprensività dopodiché il presidente dell'aggiunta qualche nobile assessore che fa sempre del moralismo invece fa l'esatto contrario si sospendono e qualche altro consigliere si sospendono l'indennità dell'articolo 7 di nascosto senza dire nulla a nessuno come se dovessero nascondere qualcosa per cui hanno paura della gente io questo addebito come elemento politico a questa maggioranza non è possibile che dal 22 luglio al 18 di ottobre ancora una maggioranza non riesce a definire a decidere se vuole l'articolo 7 o meno e non è possibile che in commissione sono 4 volte che viene e si rinvia perché ci sono situazioni da mediare o situazioni per le quali è opportuno non decidere di portare maggioranza da quando non si convoca un consiglio regionale vincenzo cotugno che io definisco il signore della politica in consiglio regionale per la sua posizione per la sua correttezza per quello che ha ricevuto da questa maggioranza e non credo che abbia bisogno del mio sostegno assolutamente glielo ho detto in aula glielo dico sempre in forma privata glielo dico davanti alle telecamere perché è così però deve arrambicarsi sugli specchi per poter giustificare una posizione di una maggioranza che naviga in mare e in cieli aperti ma molto molto agitati perché gli atteggiamenti che ci sono in questa maggioranza assessori consiglieri regionali contro il presidente il presidente che si esprime in una forma che credo c'è il senatore Astori che non dico che è il padre storico di questa regione ma sicuramente la memoria storica di questi consigli regionali da vent'anni in poi io credo che questi atteggiamenti non se ne sono mai visti e credo che chi ha costituito questa regione che è vivo e di fronte questo questo non dico firme perché sarebbe offensivo nei confronti della massima istituzione ma questo panorama è veramente una cosa che dà fastidio dà fastidio a chi ha detto ai lavori figuriamoci ai cittadini ecco perché poi di quel movimento io ci vorrei tornare successivamente allora io quello che ha debito a questa maggioranza ma dobbiamo stringere non su questo dobbiamo parlare anche di altro però concluda io quello che ha debito a questa maggioranza che non decide allora il presidente Frattura come diceva l'avvocato Biscardi ha dichiarato più volte che è incompatibile questa maggioranza ha una ha un un modo ha un una posizione di riconoscere il presidente della giunta quando è leader del centro-sinistra di questo consiglio regionale sì o no questi sono degli elementi politici che io pongo nel dibattito ma anche in consiglio regionale perché altrimenti non ne usciamo la stampa fa il proprio lavoro e su questo io mi permetto di dire a volte che si esagena che si capisco anche capisco anche noi potremmo capire quello che sta dicendo però Cavaliere no però io voglio ci tengo a precisarlo un conto è fare informazione dicendo bugie un conto dicendo la verità non dico se i numeri sono quelli il giornalista di turno o il sottoscritto non può pensare o immaginare che l'articolo 7 non c'è più quando è lì e lo percepiscono guardi lei oltre a fare bene il giornalista ha un DNA dal punto di vista politico che credo che stiamo alla pari sui livelli di esperienza non diretta ma per quello che ognuno di noi io la faccio qualche anno fa però quella è stata la migliore politica che ha creato formazione in ognuno di noi però l'esagerazione che io intendevo nei confronti della stamba non di Tere Molise come la vostra direttrice ha evidenziato nel servizio io parlo in generale è quella di un accanimento quotidiano io va bene anche questo perché capisco che si devono vendere giornali gli online gli audience tutto quello che vogliamo io capisco tutto però forse ad alternare il fatto che si diceva prima l'amico Cotugno dice se noi dessimo ai molisani ai nostri cittadini che poi conosciamo tutti noi andassimo a risolvere i problemi della gente sarebbe un'altra cosa il problema è che questo consiglio regionale non si riunisce quando il sottoscritto ha detto più volte al presidente Frattura in aula e lo ripete nelle televisioni siamo disponibili a fare minoranza in maniera costruttiva rispetto ai problemi seri non vogliamo fare contrasti vogliamo essere il consiglio regionale che risolve i problemi del Molise senza centro-sinistra e senza centro-destra vogliamo essere uniti ma se questo consiglio regionale ma voi immaginate che non si riunisce il consiglio regionale da tre settimane l'evidenza della barba è quella ecco perché questa è l'evidenza della barba da quando non si riunisce il consiglio regionale martedì farete consiglio martedì prossimo no non si fa consiglio regionale allora io le faccio una domanda alla quale io prego di rispondere non mi deve dire questa volta ma è possibile mai che in questo consiglio regionale non c'è un argomento che interessa tutta la comunità di questa regione che non si possa fare un consiglio monotematico che non si possa parlare della sanità che non si possa parlare della programmazione dei PISU dei PAI dei PIT ma posso rispondere non si possa posso rispondere quando lo farete lo riporteremo ai nostri no no sto dicendo per farlo dovete fare voi il consiglio non io però il problema è che le voglio far capire che sono tre settimane che non si riunisce un consiglio regionale allora io credo che anziché tutti i giorni bombardare sulle tanto ormai i molisani sanno tutto di noi sanno tutto ed è giusto anche che lo siano ma lo sanno già in partenza quando ci votano perché tutti i molisani già dai precedenti anni sanno quando prendiamo l'ordo quando prendevano credo che questo guardate che questo non è assolutamente così vedete gli online dell'anno scorso e vedete tutte le indennità tra l'altro muove avete l'obbligo adesso di mettere in rete non solo adesso sono stati messi ieri ma per concludere ed essere costruttivi allora io dico rispetto a questo io invito la maggioranza a chiuderlo questo aspetto ad essere decisionisti se sì si assumono la responsabilità di dire sì ma se no se no e no così anche la stampa finisce ma ci riconosce al consiglio regionale un aspetto di aver tagliato quelle che sono le indennità perché lei sempre ha detto siamo pronti per quanto riguarda le indennità credo che il consiglio regionale sono in linea assolutamente c'è il problema della tipologia è che però decidiamo è certo è certo ma sia chiaro però che qualora il consiglio regionale dovesse produrre tante belle cose no nonostante quella produzione comunque non potrebbe superare come indennità di stipendi gli importi massimi previsti da Monti insomma non si può assegnare un premio di produttività perché produce di più e secondo me è anche sbagliato questo lasciamo stare così lasciamo stare i premi di produttività che i dirigenti non dico della regione quello è un altro tema lo ha sollevato Cotugno delle strutture pubbliche le anticipo una cosa che l'hanno sollevato anche i nostri telespettatori e poi li ascolterete questo tema che ha sollevato Cotugno l'ultima cosetta di 30 secondi che anche l'emendamento presentato da me in consiglio regionale per uniformare le 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 indennità di carica di carica è stato bocciato è stato bocciato perché io avevo proposto solo ai due presidenti l'indennità di carica e ai 19 consiglieri regionali di non avere l'indennità di carica anche quello era un modo è stato bocciato per abbassare ma era un modo per abbassare anche perché diciamolo il presidente della giunta almeno lui di sicuro deve essere retribuito di più ma assolutamente non c'è dubbio credo che il maggiore onere lavorativo ce l'ha lui prima l'ingegnere Cotugno ci ha dato un bell'assist un assist apposto fatto apposto per lei sembra cioè come si traduce questo ragionamento in possibilità di rilanciare questa regione semplificazione istituzionale diceva Cotugno abbassare le tasse infrastrutture lei da un anno è al vertice di un'esperienza amministrativa a un ente subregionale impropriamente chiamato consorzi di bonifica di venato che è successo in un anno lì allora è stato qui un anno fa più o meno ci siamo incontrati proprio all'inizio del mandato quindi diciamo che tutto quello che ho sentito fino ad oggi fino adesso è tutto estremamente importante è tutto da affrontare certamente io posso dire solo quello che mi sono permesso di fare in un ente pubblico economico interregionale che era praticamente inutile nel senso che era destinato non avendo pagato le concessioni dal 2006 e non avendo rinnovato le licenze e concessioni dal 1975 diciamo che certamente non godeva di buona salute commissariato per parecchi anni commissariato per parecchi anni aveva anche i debiti diciamo che anche la parte debiti quindi diciamo qual è il modello che cosa ho pensato di applicare ecco perché il mio suggerimento è un suggerimento molto pragmatico io non sono partito né dal taglio dei costi non sono partito dalla riduzione delle spese non sono partito dalle cose negative ho imposto al consorzio ai suoi dipendenti e a tutto il sistema intorno al consorzio che si chiamano stakeholders diciamo tutti quelli che hanno interessi a cominciare da legare d'appalto a tutto quello che poi si gestisce durante una gestione credo di aver inculcato due principi che sono legalità ed etica della responsabilità e così sono partito nel senso che ho cambiato da subito le regole del gioco nel consiglio di amministrazione nella giunta nel collegio sindacale e nei controlli che la regione molise deve fare sulla personalmente ho conosciuto tutti i miei interlocutori istituzionali andandoci personalmente dai dirigenti di settore attenzione non dai rappresentanti politici devo dire che da tutti dopo un anno credo di aver ricevuto molto a livello di informazioni ma credo che da parte mia anche ho innescato un modello diverso di riferimento non avevano mai visto un presidente del consorzio di bonifidi venafro o un commissario credo da 10 anni da 15 anni cioè mai nessun presidente andava presso le strutture regionali quindi che cosa è successo l'ente non stava in condizioni attive ho imposto una spending review io ho preceduto il governo Monti e dove l'ha tagliato ho tagliato su tutto a cominciare dagli straordinari dei dipendenti che hanno accettato di buon grado proprio perché sapevano che la prospettiva era lo sviluppo ma non dopo 5 anni da subito ho tagliato sugli acquisti ho tagliato su tutte quelle che erano le possibili efficienze abbiamo lavorato molto bene con la regione Molise e abbiamo cambiato alcune leggi di riferimento del sistema dei consorsi di bonifica in maniera tale che noi riusciamo ad avere delle economie facendo i lavori quindi non chiedendo soldi a come si faceva prima che cascavano da cedo vi faccio l'esempio arriviamo nel 2013 noi abbiamo chiuso già il bilancio dell'anno scorso in attivo abbiamo azzerato tutto quello che è il contenzioso del lavoro tutti i contenziosi sono stati azzerati nel 2015 termineranno anche i debiti ovviamente già stiamo innescando lo sviluppo vi posso solo dire che nel 2013 la regione Molise per le difficoltà note al consorzio di bonifica della piana di Venafro ha erogato euro zero il consorzio di bonifica della piana di Venafro ha erogato alla regione Molise ben 80 mila euro liquidi pagati e quindi avete dato assolutamente sì quindi voglio dire il consorzio di bonifica in questo momento sta contribuendo a quello che il discorso che sto sentendo sulle retribuzioni dei consiglieri del sistema che obiettivamente è un falso problema visto dal mio il tema è proprio la produttività ma non dei consiglieri che loro è giusto che abbiano quel tipo di riferimento perché non è il problema è il sistema organizzativo interno alla regione Molise che a mio avviso ha bisogno proprio di una sferzata di managerialità diciamo perché non è possibile che io per avere un'autorizzazione ci vogliono 10 mesi è quello che diceva a Reggio e quindi se io ci metto 10 mesi che vado io attenzione vado io negli uffici non è che mando qualcuno ci vado fisicamente quindi vengo da Roma non ci passo nemmeno appena vado direttamente a Campo anzi vengo qui a Campo e mi trovo degli scontri con la burocrazia scontri amichevoli per l'amore di Dio scontri nel senso di tempi perché nei tempi perché in economia i tempi sono quelli che contano di più io quest'anno se stavo a presto alla Regione Molise io tutti i lavori che ho fatto quest'anno e ho anticipato con fondi della Cassa del Consorzio di Bonifica io non avrei assunto nessun operaio nessun operaio avrebbe potuto lavorare come vi ripeto ad oggi io non ho ricevuto zero ma non è che mi sto lamentando sto dicendo la Regione Molise quindi qual è la produttività vanno bene i tagli dei costi vanno bene seguire le aziende in crisi che bisogna in qualche maniera trovarli però bisogna decidere se queste aziende una volta è per tutte se queste aziende devono chiudere i privati devono pagare quello che loro o scure c'è in quelle aziende i tanti lavoratori che attenzione il tema qual è che bisogna separare la gestione delle aziende in crisi dalla gestione delle aziende dello sviluppo perché altrimenti se noi equivochiamo sui soldi e qui dice no ci servono i soldi per riparare il deficit attenzione ma tu i soldi per lo sviluppo me lo devi dare perché io sono in condizione di assumere e di far sviluppare tutto perché non mi si supporta questa è la domanda cioè io oggi ho progetti cantierabili che potrebbero assicurare il lavoro a partire dal mese di novembre giusto e ci sono progetti già predisposti ho chiesto di pulire dei torrenti la cittadinanza me lo chiede quindi non è vero che nei confronti delle istituzioni che operano nel nostro sistema le persone il nostro i nostri modi sani sono arrabbiati sono arrabbiati per l'inefficienza del sistema ma laddove vedono che i soldi sono ben investiti il mio caso rappresenta una cosa differente tanto è vero che ho potuto presentare il piano di classifica che è lo strumento normativo del consorzio di bonifica che la regione molise mi ha chiesto di fare l'anno scorso io l'ho fatto in tempi assolutamente record chi ha pagato il piano di classifica sempre il consorzio di bonifica perché la regione ancora non mi paga nemmeno quello cioè quello che mi ha ordinato di fare nemmeno quello mi ha erogato ok allora se il problema del credito e veniamo alla fine c'è un disegno che potrebbe dare il disegno il problema del credito il problema del credito attiene un ente che è un ente che grazie a Dio riesce anche a lavorare come vi sto spiegando vi rendete conto che noi il sistema della piccola e media impresa che è quella che ci alimenta il credito se non arriva a me ma figuratevi se arriva a loro è impossibile e quindi lo sviluppo come lo attacchiamo domanda questo è quello che io chiederei a ogni singolo consigliere regionale non se prendono non prendono l'indennità porta a bordo quello è l'argomento del giorno è chiaro l'argomento del giorno ma io al consorzio l'ho risolto ai miei amministratori ho vietato di chiedere il rimborso per esempio auto per il semplice motivo che quest'anno altrimenti il bilancio non chiudeva in perdita quindi ho detto amici miei mi dispiace questa anno zero o venite con la vostra parte o venite con la vostra parte a proposito di chiarezza ma loro hanno aderito attenzione parlato anche dei nostri eccessivi di dirigenti e di responsabili degli enti subregionali qual è la sua retribuzione se lo dica adesso la mia come presidente del consorzio non prendi in esame l'azienda facciamelo sapere no è meglio che non lo dico perché se lo so l'agricoltura lo sa benissimo lo sa benissimo non è da vedere in esame posso dire che il consumo della vettura è molto di più di quello che io lo faccio ogni settimana avete capito che stiamo a Roma non è dai privilegiati no peppino assoluto dobbiamo accelerare però perché abbiamo tante cose a dire soprattutto il rapporto svilmezz di oggi che mette in Molise fotografo in Molise in grosse difficoltà allora a lei io avevo fatto la domanda a primo giro lei quando guadagnava stando al senato fino a poco fa la sua ultima busta paga qual è stata? io credo la mia ultima busta paga è stata di 11 mila euro tra tutto tra spese articolo 7 tutto però devo dire la verità che io credo che stavo molto meglio come consigliere regionale che come parlamentare a livello economico insomma ci sono più spese anche il rapporto parlamentare con i cittadini con gli amici e così via ma comunque io voglio entrare nella logica dell'articolo 7 ci entra tra un attimo perché con lei che ha fatto abbiamo anche riportato delle battaglie parlamentari in aula al senato a Palazzo Madama soprattutto sui collaboratori ha fatto e l'ho risolto e ha fatto vere battaglie allora noi abbiamo un servizio anche questo datato di quest'estate di Manuela Petescia sempre che riguarda perché poi questa vicenda involontariamente si è innescata con la vicenda dei gruppi consigliari sicuramente non c'era ancora Vincenzo Cotugno perché sono questioni pregresse ma è sempre attuale tranne qualche correzione che faremo subito dopo allora ascoltiamo il secondo editoriale di Manuela Petescia è scatenato Scandalo dopo scandalo inchiesta dopo inchiesta dal Lazio alla Lombardia dalla Sicilia all'Emilia Romagna è esploso anche nel Molise il caso dei fondi destinati ai gruppi consigliari della regione e allora vale forse la pena cercare di capire come si è arrivati a questa situazione i fondi destinati ai gruppi consigliari innanzitutto hanno un titolo spese per il personale e per il funzionamento del gruppo e per un lunghissimo periodo non se ne chiedeva nemmeno la rendicontazione se non sommaria e approssimativa in genere alla vaghezza di una legge nel settore della spesa pubblica si sopperisce con l'onestà e il buon senso di chi amministra in questo caso i capi gruppo proviamo a fare un esempio che può essere simbolico l'acquisto di un televisore non è scandaloso di per sé ma dipende dalla sua destinazione se il televisore è a disposizione di tutti collocato in bella vista nei locali della regione è un conto se invece è finito a casa del politico di turno con i soldi nostri è un altro sembrano affermazioni ovvie scontate eppure in questi giorni di esasperazione popolare in cui le aspettative di trasparenza nell'uso del denaro pubblico spesso si confondono con il giustizialismo viene facile mettere tutti i politici sullo stesso piano tutti lusi tutti bel sito all'insegna della truffa dell'appropriazione indebita e del peculato non è così e per quanto impopolare possa apparire la riflessione giusta pacata serena dovrebbe partire da una prospettiva diversa premesso che esisteva ed esiste un capitolo di spesa a disposizione di ogni singolo gruppo consigliare come sono stati gestiti quei fondi la destinazione d'uso dovrebbe essere un primo spartiacque tra illecito e l'illecito il primo criterio di valutazione di scontrini e fatture e la quantità di denaro 20 centesimi o 10.000 euro non è una discriminante oggettiva se il capogruppo ha offerto un caffè all'ambasciatore egiziano e lo ha pagato con quel capitolo di spesa gli si può contestare la taccagneria ai limiti del ridicolo e lasciatecelo dire del ribrezzo considerato il suo l'auto stipendio mensile ma non gli si può contestare la disonestà se invece ha ordinato il pieno di benzina per mogli figli e amici avrà affrodato lo Stato e i cittadini se 800 euro al mese sono serviti per dare lavoro a un portaborse disoccupato è un discorso casomai di scelta e di competenze se 800 euro al mese sono semplicemente confluiti sul conto corrente personale del capogruppo il discorso cambia e sarà questo con molta probabilità il rompicapo della magistratura nei prossimi giorni la fattura al ristorante di lusso non implica l'arresto o l'incriminazione automatica di qualcuno ma impone la ricostruzione dettagliata di chi ha banchettato quel giorno e con quale motivazione non tutti ladri dunque non tutti disonesti e accertare come siano andate realmente le cose prima di trinciare giudizi sommari è giusto e doveroso anche se probabilmente non frenerà il senso di beffa di frustrazione di nausea che si diffonde tra chi ha perso il lavoro o non l'ha mai trovato e per contro assiste alla dolce vita degli amministratori molisani un po' come la regina Maria Antonietta che secondo la leggenda consigliava al popolo di mangiare brioche se non aveva il pane prima di finire sulla ghigliottina ecco qua allora è datato diceva Astore nel senso che è stato trasmesso quest'estate però è sempre attuale pure questo c'è un'inchiesta in corso della magistratura la correzione è datare non è una correzione in verità è che la magistratura ha avviato le sue indagini dopo quelle della guardia di finanza ha chiamato a colloquio parecchi consiglieri della passata legislatura capi gruppo e non solo e in tutto in discrezioni circolate che si tratta di una quarantina di consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali allora su questo Astore è sempre un terreno scivoloso voglio dire questo dei gruppi dobbiamo anche dire che fino all'anno scorso fino al decreto Monti anche sui gruppi non c'era una regolamentazione precisa e vincolante per l'utilizzo dei soldi dei gruppi lei ha fatto una battaglia in Senato dicevo in Senato quando ho parlato di queste cose ho detto che le regioni sono state un facile profeta scimmiotto nel Parlamento perché anche a livello parlamentare c'è stato il problema dei gruppi e l'abbiamo risolto al Senato con una semplice legge fatta da me e da Ichino un emendamento Ichino in cui abbiamo detto tutto deve essere messo online e una buona volta prego il Presidente raggiunto il Presidente del Consiglio che questo Consiglio venga preso anche qui il cittadino ha diritto di sapere tutto una volta messo tutto in online credo che mettiamo online c'è una norma quello che vuoi ma nella nostra regione non puoi avere i dipendenti dei gruppi non puoi avere l'elenco dai in nome di una falsa privacy questa è la verità chiedo scusa è così è così primo articolo 7 io la mia posizione la devo dire in maniera serena tranquilla perché io credo che l'ingegner Cotugno abbia detto delle cose sagge però attenzione ma mi dite a cosa serve un supporto legislativo al Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio ai Presidenti di Commissione agli assessori che hanno già strutture regionali di altissimo livello hanno i direttori generali e così ma scherziamo 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 adesso tutt'al più eliminatelo come diceva del resto anche il capogruppo del PD che non parla più mi pare che ci sia stata anche una proposta del genere eliminarlo per tutte le cose che abbiamo sentito perché e rivedere un po' con gli stipendi in nome di un certo taglio no la lattanza è un po' si è un problema serio ha proposto anche la progazione sulla gestione ma si sta mediando sulla gestione e sulla trasparenza dei gruppi ma io credo che scusate ma perché dobbiamo dare il supporto a chi ha l'indemnità addirittura anche di funzione e a strutture regionali di altissimo livello tutt'al più al Consigliere e sono tre ma dai non scherziamo siamo seri perché la regione molise deve recuperare credibilità e così e poi rivediamo tutti insieme un po' con gli emolumenti regionali tagliare del 10-15% come hanno fatto a Roma e così io credo che sia corretto per ciò che riguarda i gruppi in maniera chiara volevo dare un dato poi continua lei in maniera chiara e si è fermato qua e continua tra un attimo dobbiamo dire per correttezza che il finanziamento ai gruppi della regione Molise è sceso da 2 milioni e passa di euro all'anno per tutti i gruppi a 440 mila euro all'anno per effetto del decreto Monti imposto dalla legge certo però c'è un dato che pure qui e te lo faccio commentare a Storio e poi al Tributarista il dato che quello che prevede il decreto Monti è 5 mila euro all'anno per consigliere quindi 21 consiglieri 105 mila euro poi prevede una unità di 6 o il corrispondimento economico erogato ai gruppi in rapporto al numero dei consiglieri quindi uno a consigliere poi prevede ancora 5 centesimi per ogni abitante pari a 15 mila euro più o meno poco più nel Molise 313 mila abitanti l'ultimo censimento 15 mila euro quindi in tutto da dividere per tutti in tutto quindi dovrebbero essere 105 mila più i 15 mila 120 mila euro più l'indennità data con rispettivo per chi lavora ai gruppi 120 mila euro sono diventati 440 mila euro questa è la verità e quindi anche da questo punto di vista la legge approvata la numero 10 non è del tutto legittima secondo me ma ci voleva secondo voi l'intervento del Parlamento che obbliga un'autonomia costituzionale di fare queste cose questa è la verità la riflessione che io invito a fare a tutti i consiglieri regionali premesso che la regione molise cari consiglieri aveva 2 milioni e mezzo di spese per i gruppi ma scherzate appena dopo superiore alla Lombardia premesso che la regione molise ha oggi 14 gruppi e ieri ne aveva 17 ma vi pare che non bisogna attivarsi ad eliminare i gruppi monocellulare ad inventarsi chiedo scusa ad inventarsi qualcosa la storia deve chiudere quello che io dico sono tutti i discorsi ho capito fatte le ritroverete in consiglio regionale tutti da 10-15 anni comunque sull'eventuale diffubilità c'è un'inchiesta aperta si ma la magistratura siccome lo ripeto c'è allarme sociale su questo problema perché in nome dei gruppi non si può ci sono tante gente oneste che è messa nel tritacarne non si possono fare il tutto il contrario di tutto la magistratura oggi ha il dovere non sono in critica a questo di sbrigarsi di fare subito e da includerci anche quello che la corte dei conti ha detto ultimamente almeno pubblicamente ha detto delle cose insomma che leggendo insomma viene veramente da riflettere allora insieme queste cose il consiglio regionale sia la destra sia il centro-destra sia il centro-sinistra devono lavorare insieme perché le regole devono essere di tutti le regole non possono essere patrimoni di maggioranza o di mila avanzi dopodiché bisogna affrontare i veri problemi questo lo dico formalmente al presidente della giunta che ieri dice una cosa ci arriviamo da un attimo ai problemi voglio dire solo che ma non aveva detto il presidente della giunta che dimezzava le intimità nel 2011 l'aveva detto la campagna del 2011 sono programmi in gioco ok allora pubblicità perché siamo in ritardo poi biscaldi e poi cambiamo ovviamente tipo di argomenti pubblicità la detrazione fiscale del 50% la qualità dei materiali l'accuratezza della progettazione la precisione nella posa in opera con Gentec Impianti il fotovoltaico e il mini eolico sono la vera soluzione per il risparmio di famiglie e piccole imprese Gentec Impianti impresa elettrica a servizio completo è partner tecnico di indiscussa competenza impianti antifurto videosorveglianza domotica automazione realizzazione e manutenzione di impianti complessi a servizio di grandi strutture sono da 20 anni la nostra passione Gentec Impianti nuova sede nella zona industriale di Ripa Limosani l'idea il progetto soluzioni avanzate informatica web design prodotti multimediali conoscenze e tecnologie per la certezza del risultato PubliService PubliService sito internet www.publiservice.net Allora ultima parte di Moby Dick a sole doveva aggiungere un codicillo al suo intervento si creano privilegiati cioè che siano stati indagati purtroppo per la legge nazionale solo gli ultimi 5-6 anni io credo prego il consiglio di nominare una commissione di inchiesta almeno a livello politico poi la gente saprà la verità anche sugli anni precedenti anche quando c'era lei soprattutto per evitare per evitare che si creano zone d'ombra sospetti e così via una bella commissione di inchiesta perché il problema è politico non è il problema di vedere la gente come è nato d'accordo lo ha detto allora Finoccio Biscardi avvocato Biscardi abbiamo detto che 2 milioni di euro all'anno sono stati risparmiati nella erogazione del finanziamento ai gruppi però io non mi trovo con i conti nel senso che al Molise dovevano essere distribuite in tutti i gruppi 120 mila euro all'anno più l'unità lavorativa per ogni consigliere siamo a 440 mila circa c'è qualche anomalia in questo secondo me sì allora spiego il microfono attenzione lo metta dritto se no non la sentono a casa e non l'abbiamo fatto eccolo qua ok sentite? sì sì sentono tutti anche in questo caso dobbiamo partire dal decreto Monti e dalla normativa regionale di attuazione il decreto Monti che cosa prevede? prevede che il contributo ai gruppi consigliari anche in questo caso sia determinato con riferimento alla cosiddetta regione più virtuosa all'esito dell'istruttore della conferenza Stato-Regioni la regione più virtuosa risultata essere non ricordo uguale forse l'Abruzzo comunque con un tetto con una contribuzione di 5 mila euro a consigliere sì all'anno all'anno e di 5 centesimi ad abitante la legge regionale su questo come dire introduce un elemento di ambiguità perché dice il contributo a ciascun gruppo regionale è dato da 5 mila euro a consigliere e 5 centesimi ad abitante applicata perché poi la quantificazione non l'ha fatta la legge la quantificazione l'ha fatta l'ufficio di presidenza con una delibera attuativa dell'Abruzzo l'ufficio di presidenza del consiglio regionale cosa ha fatto? ha stabilito i 5 mila euro a consigliere alcuni sono previsti a livello normativo i 5 centesimi per abitante li ha dopo la relativa moltiplicazione arrivando quindi a 150 e rotti li ha moltiplicati per il numero dei consiglieri li ha moltiplicati per il numero dei consiglieri perciò da 150 si è arrivati da 15 mila euro sono arrivati da 15 mila sono arrivati a 320 mila euro a 320 mila euro al netto esattamente questa moltiplicazione anche in questo caso come per l'articolo 6 è una moltiplicazione contro la legge perché? perché se andiamo a vedere la delibera della conferenza Stato-Regioni del dicembre 2012 dice chiaramente che il contributo ai gruppi consigliari è 5 mila euro a consigliere più l'importo complessivo di 5 centesimi ad abitante tenuto conto delle dimensioni territoriali della regione e del numero di abitanti cioè cosa voleva dire la conferenza Stato-Regioni che poi in quella sede era soggetto attuatore della normativa voleva dire più grande è la regione più popolata è la regione più come dire pingui più estese devono essere le risorse a favore dei gruppi consigliari se noi prendiamo l'omologa deliberazione per esempio degli uffici di presidenza del Veneto e della Basilicata troviamo che la Basilicata regione più grande del Morice più grande del Morice 580 mila abitanti esatto prevede una somma residuale di 179 mila euro il Veneto incommensurabilmente superiore per territorio prevede una somma di 540 mila euro 540 mila euro cosa vuol dire questo che c'è evidentemente un aspetto di anomalia nella deliberazione del consigliore però la legge non è stata osservata dal governo questo ok la interrompo un attimo abbiamo in linea il capo è certo la legge no la legge però è scritta in modo non proprio comprensibile evidentemente poi quella nottata si doveva chiudere in qualche modo abbiamo il dottor Giuseppe Mattucci al telefono che è un po' prego no lo può dire anche dopo però sono finito con questo argomento nel momento in cui il legislatore dice io ti do tot più tot anche per un principio di logica adesso lasciamo stare l'interpretazione letterale il tot che è la prima voce storicamente costituisce sempre come dire la risorsa maggiore allora se io dico se io legislatore dico ti do 5 mila euro a consigliere più 5 centesimi ad abitante con la la quantificazione che ne ha fatto l'ufficio di presidenza la prima voce è di 5 mila la seconda voce è di 15 mila la seconda voce diventa di 800 euro per consigliere più o meno anzi meno di 800 euro all'anno allora Giuseppe Mattucci possiamo definire il capo degli indignati mulisani che ha organizzato questa manifestazione buonasera Mattucci io non lo sento ho seguito molto attentamente ecco Mattucci lei ci sta seguendo sapeva di dover intervenire che altro vuole dire sull'indenità dei consiglieri regionali io penso io penso che l'argomento diciamo della giornata della serata è stato ambiamente sviscerato io mi ritengo che non debba essere ulteriormente aggiunto perché chi ha seguito la trasmissione ha avuto contezza di quelli che sono i temi trattati io una cosa volevo aggiungere che nel contesto quando è stato approvato questo provvedimento dall'ufficio dal consiglio regionale la situazione generale del paese è quella che tutti conoscono cioè di crisi generale è quella della nostra comunità ancora più grave gli elenchi delle crisi delle aziende in crisi sono tante è inutile che le stiamo a elencare la situazione di disagio sociale e di sofferenza sociale con famiglie lì si discuteva di 500-600 euro di differenza sapendo che ci sono famiglie in questa comunità non nel mondo in Italia che vivono con pensioni sociali di 430 euro al mese e il provvedimento che è stato adottato al di là della considerazione se è compatibile in questo contesto ha previsto un inaspiramento della leva fiscale sulla fiscalità e sulle tasse locali che è qualcosa di inenarrabile se le sommiamo i dati degli addizionali applicati che vanno ulteriormente a colpire le fasce sociali ripeto di 400 euro mensili 430 euro si va a applicare uno 0,8% significa che anche quella persona dovrà contribuire e non si sa ancora perché non è stato spiegato finalizzato sia a sostenere le spese correnti o le spese di sviluppo perché avremmo voluto sentire questo dal consiglio regionale questa ulteriore fiscalità era finalizzata o a coprire dei debiti pregressi o quelli in essere oppure finalizzati allo sviluppo invece non c'è stata assolutamente nessuna spiegazione le accise sul gas sappiamo che è una regione freddissima la nostra è una delle voci che incidono maggiormente sul costo delle famiglie è stato applicato un ulteriore aumento delle accise sui carburanti che si aggiungeranno a quelle nazionali questo è un modo di trattare i cittadini molisani noi ci aspettavamo un segnale di discontinuità con il passato che cosa abbiamo avuto il primo provvedimento che contestualmente contemporaneamente si adeguano le indennità e contestualmente si inasprisce la fiscalità in quel modo che significa mettere in ginocchio le famiglie stanno chiudendo commercianti attività di basta girare nella nostra piccolissima comunità e la situazione è chiara Mattucci però è un villaggio di questo mondo globale è chiaro Mattucci però vediamo tutti i negozi chiudere lo vedete tutti contestualmente che cosa sta accadendo Mattucci e come si interviene sugli enti inutili sulle sedi a Bruxelles su quelle che si stanno a Roma sulle consulenze che sono state applicate Mattucci su quelle che non si interviene per tagliare Mattucci mi sente Mattucci ci deve dire una cosa però molti si chiedono perché lei ha organizzato la manifestazione e chi c'è dietro di lei dietro di voi insomma questa cosa mi fa sorridere dietro di me ci sta il mio cervello io probabilmente contrariamente a molti sono andato studiato i miei genitori hanno fatto gli emigranti negli anni 50 e hanno fatto i muratori contrariamente ad altre persone che hanno avuto maggiori fortune e il mio cervello non è organizzato da nessuno è semplicemente una riflessione io mi aspettavo un cambio di rotta che significava finalmente prendere coscienza dei problemi di questa comunità invece che cosa è accaduto che si è discusso ancora del quinto assessore di chi doveva fare il presidente del consiglio regionale e noi l'avevamo votato questo consiglio questo 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 governo dicendo sinistra quale è stato il risultato quello che è davanti agli occhi di tutti ecco che farete continuerete a protestare per chiudere poi con lei la telefonata e sono previste altre manifestazioni ma tutti abbiamo allora abbiamo la presenza di amici che spontaneamente si sono mesi disponibili per raccogliere le firme sia a Isernia che a Termoli domenica si saranno due banchetti a Isernia e a Termoli noi raccogliamo le firme di fronte per il corso dove chiederemo il dimezzamento delle indennità e tra le altre cose diciamo questo che si è attivato un gruppo su Facebook dove ci sono già 700 adesioni al gruppo ora o mai più e in più diciamo che stiamo organizzando una manifestazione per metà novembre alla quale stiamo avendo una grande adesione da parte di tutti e per il resto mi aspetto che ci sia una maggiore considerazione sui problemi che affliggono le persone quotidianamente che sono quelle di cercare di arrivare a fine mese e che invece aspettano risposte dalla politica e invece ottengono soltanto disprezzo e l'ultima cosa che volevo dire che questo consiglio regionale l'ufficio di presidenza ha minacciato attraverso un provvedimento vorrei capire con quale logica che minaccia i cittadini di non protestare non c'è nessuno nell'ufficio di presidenza ma a tutti non c'è nessuno nell'ufficio di presidenza poi questo farà parte della discussione nei nostri telegiornali magari ma qual è la domanda che vuole rivolgere all'ufficio di presidenza no la domanda è questa che il dissenso quando è critico è contemplato dalla costituzione quindi non è il dissenso dovuto a un fatto e i cittadini si devono riappropriare del proprio diritto di partecipare alla vita politica e alla vita civile questo è tutto sempre nel rispetto delle regole della civiltà va bene Mattucci la ringrazio grazie e buonasera dovremmo anche sentire Antonio Federico però chiedo alla regia se è pronta prima di cambiare argomento con Vincenzo Cotugno lo chiudiamo questo di farci ascoltare un servizio ironico e la gente che ha parlato poi metteremo due minuti di telefonate due o tre telefonate massimo ma sentiamo il servizio di Marcella Tamburello crisi parola d'ordine dell'era moderna crisi sociale crisi familiare crisi dei valori ma soprattutto crisi economica e il divario delle classi sociali è sempre più forte mentre la classe media è stata praticamente eliminata in Italia si contano sempre più poveri e alcuni ricchi molto ricchi non ci metteremo a scialacquare questi soldi e non lasceremo che modifichino quello che siamo di che stai parlando questi soldi sono il biglietto per la bella vita ho comprato un gigantesco forziere pieno di monete d'oro e ora voglio tuffarmici dentro come zio paperone e così mentre alcuni paperoni a dire la verità sempre gli stessi continuano a raccogliere lingotti d'oro e a tuffarsi nei propri averi alla faccia della crisi gli italiani raccolgono spazzatura per poter sopravvivere Noi quadrimiliardari ci divertiamo diversamente Qualcuno fermi i pantaloni Quala vita a Paperopoli è un gran ballo Corri in voli in aeroplano Ma che spallo La cassa soprattutto quella politica è sempre più ricca da nord a sud l'Italia dei politici d'oro pesa sulle spalle dei cittadini costretti a pagare tasse su tasse per mantenere le spese folli di chi dovrebbe garantire il bene comune ed invece il gioco di squadra dei politici si trasforma sempre di più nella difesa unica della cassa dei privilegiati Sono tutti quanti i megadirigenti ad avere troppi soldi rispetto a una situazione generale che economicamente non è florida non soltanto la cassa politica anche la cassa dei dirigenti aziendali che sono secondo il mio modesto avviso strapagati sia quando esercitano le loro funzioni sia soprattutto poi quando vanno in pensione la posizione dei molissani è una cosa gravissima perché non ne possiamo più lo dice uno che ha votato frattura e mi dispiace dirlo però ci sta deludendo perché qui tutto aumenta loro si sono aumentato lo stipendio ogni mese si aumentano lo stipendio 500 una volta 600 una volta e a noi non ci hanno detto niente di buono stiamo pagando la luce in più è aumentato il gas adesso ci aumenta la tarsa non so come si chiama la triste l'hanno messo un nome adesso è aumentato tutto e noi prendiamo sempre 500 euro al mese possiamo vivere? e io vado no ma non solo la politica ma anche coloro che lavorano per istituzioni della RAI come la RAI che è un'istituzione pubblica non dovrebbero percepire quel tipo di stipendi 5-6 milioni di euro all'anno ma stiamo scherzando la gente si muore di fame e poi si permettono anche di criticare oppure di far sì che ci hanno dei talk show dove magari l'italiano vero non parla parla poco o per niente parlano sempre i politici e coloro che sono qualcuno e io pago beh sicuramente anche le ultime elezioni ci avevano promesso delle cose diverse rispetto a quello che poi è successo ci auguriamo che prima o poi si rendano conto che effettivamente c'è crisi c'è poco lavoro e la gente vorrebbe anche vedere qualche sacrificio da parte dei nostri politici e io pago questi chiacchi erano soltanto e non risolvono mai i problemi che in effetto avrebbero dovuto diciamo garantire ai cittadini dopo che predicano durante il corso delle elezioni tante belle cose che poi non rispettano e io pago è un dramma diciamo che si sta ripetendo da parecchio tempo il solito ragionamento che facciamo tutti però mi sembra che da quest'ultima manovra messa a punto questa settimana ci dovrebbe stare un pochettino di respiro chiaramente non basta ci voleva un po' più di coraggio per questa manovra forse per per mettere qualcosa di più in tasca specialmente agli operai e magari ai disoccupati ai pensionati e io pago prendono troppi soldi i politici italiani prendono lo stipendio tre volte più di quelli spagnoli il doppio di quelli francesi il 40% di più di quelli tedeschi è uno spreco e l'Italia se non si mette male nella casta non andiamo bene qua c'è gente che non può vivere 8 milioni di italiani di pensione vivono e viviamo con la media di 700 euro di pensione al mese non è possibile qua purtroppo non lo so la colpa non è di oggi ma benzi da anni ma intanto i governi si sono sempre alternati non è stata sempre la democrazia cristiana ci sono stati anche altri governi non hanno fatto niente di nessuno qua è tutto ingessato niente che si fa qua ci vorrebbe un cambiamento proprio un rovesciamento di tutto ma chi lo fa non lo so purtroppo mi dispiace per i giovani per voi che prospettive secondo me non ce ne sta allora noi abbiamo fatto parlare i cittadini non c'è più moltissimo tempo pochi minuti ma se qualcuno vuole proprio telefonare su questo argomento lo può fare prima di far parlare Vincenzo Cotugno però mettiamo subito in onda un servizio che introduce l'ultimo argomento poi Nola ci deve dire i suoi particolari un servizio di Torino Larisse che riguarda gli ultimi dati diffusi dallo Svimez proprio oggi cioè l'associazione per lo sviluppo industriale per il mezzogiorno e sono dati non rose per il Molise ascoltiamoli i dati del rapporto Svimez 2013 l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno fotografano un quadro non certo roseo il sud è a rischio povertà e desertificazione industriale con aziende che chiudono consumi che non crescono disoccupazione che supera il 28% tasse che aumentano e spese tagliate una famiglia su sette ed è il dato che fa paura guadagna meno di 1000 euro al mese e in un caso su quattro il pericolo povertà rimane anche con due stipendi in casa la crisi insomma ci piega le ginocchia prodotto interno lordo con il segno meno in tutta Italia ma nel sud è calato del 3,2% in Molise e Campania magra consolazione perché la caduta è più contenuta meno 2,1% giù consumi e investimenti ha rilevato lo Svimez secondo le previsioni la recessione continua in Molise ancora il tasso di disoccupazione ufficiale al 12% ma quello corretto al 2012 al 20,7% e interessa soprattutto giovani entro i 24 anni calano gli occupati in agricoltura a meno 7% e nell'industria a meno 5,6% e c'è il dramma del comparto edile in agonia positivo il settore dei servizi più 3,2% nel mezzogiorno e i disoccupati nel primo semestre del 2013 sono sotto la soglia dei 6 milioni non accadeva dal 1977 ma il dato Svimez forte e preoccupante è quello sotto la voce distribuzione dei redditi povertà e benessere le famiglie povere infatti sul territorio molisano sono il 20,5% circa 80.000 persone l'1,7% vive con meno di 6.000 euro all'anno e l'8% con meno di 12.000 quelle monoreddito costituiscono nel 43% c'è poi da considerare che il tasso di mortalità in Molise supera di almeno 4 punti percentuali quello di natalità e dal mezzogiorno si tende di nuovo a cercare fortuna al nord i giovani poi specie i laureati scelgono in genere di andare via soprattutto all'estero tendenza però comune in tutta Italia questa ecco questi sono i dati ingegnere Cotugno non serve non ci sono parole per commentarli non serve commentarli sono dati chiari lei ha come dire avviato delle iniziative amministrative politico-amministrative incontrando tutte le associazioni per esempio del comparto che più sta in difficoltà in questo momento il comparto delle costruzioni dell'edilizia cosa state predisponendo per rilanciarlo? noi abbiamo istituito un tavolo permanente per l'edilizia permanente perché ormai i dati sono da bollettino di guerra nella nostra regione in tutto il paese però noi ci preoccupiamo della nostra regione basta pensare che sono oltre 4.000 posti di lavoro persi direttamente nell'edilizia oltre all'indotto che sono molto molto di più ovviamente con 4 milioni di ore di lavoro in meno crollo di tutti i bandi di gara difficoltà dei pagamenti difficoltà dell'accesso alle banche e quindi con anche una tassazione ormai più insopportabile da parte delle imprese per cui siamo veramente a un vero e proprio stato di emergenza che cosa vogliamo fare che cosa stiamo facendo come come programmazione noi abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni la prima cosa spendere spendere tutte le risorse che abbiamo e quindi tutti i fondi PIT PAI PISU pari a circa 70 milioni ci sono le risorse ci sono le risorse sono state già tutte assegnate per cui circa 70 milioni di euro sono già stati assegnati alle amministrazioni che dovranno fare le progettazioni e quindi gli appalti si pensa di arrivare a gennaio febbraio pronti con gli appalti poi bisogna sbloccare tutti i pagamenti benissimo assolutamente e le imprese mandano crediti da parecchio tempo non si può morire ovvero fallire per crediti e non per debiti perché questo è il rischio bisogna abbattere la burocrazia burocrazia zero questo deve essere il nostro impegno impegno come governo regionale poi bisogna attivare la FIMULISE la FIMULISE deve essere deve diventare la vera banca del territorio che riesce a smobilizzare i crediti delle imprese cosa che purtroppo il sistema bancario normale non riesce a fare più e poi ci sono le infrastrutture noi abbiamo i fondi per l'autostrada per il terremoto che sono centinaia di milioni di euro esattamente stiamo parlando ma questa autostrada la volete fare o no davvero? assolutamente sì assolutamente sì 500 milioni il primo lotto che arriverebbero in questo territorio potrebbero cambiare veramente ribaltare quel meno 2 quel meno 2,1 del PIL della nostra regione con le infrastrutture altri modi sono palliativi sono non risolvere il problema ci vogliono grandi investimenti devono partire le infrastrutture noi abbiamo la grande infrastruttura che è l'autostrada sulla quale ci dobbiamo assolutamente impegnare come diceva Astore io voglio fare una semplice domanda perché il popolo morisano ha diritto alla verità insomma primo mi permetto all'assessore di fatto poi lo facciamo lui è delegato consigliere delegato la programmazione se ci sono 70 milioni di euro ancora dei vecchi fondi europei vuol dire che qualcuno la devo interrompere un attimo ci sono i vecchi fondi un attimo abbiamo promesso ai telespettatori 2-3 telefonate al massimo perché siamo veramente fuori tempo vediamo che è in linea pronto? buonasera sono il sindaco di Montorio Nei Frentani Nino Ponte buonasera sindaco la prego la prego sintesi prego di tutti ed in modo particolare chi conosco vorrei portare quindi la mia testimonianza riguardo agli ammolumenti delle cariche elettive ossia rendere conto di quanto percepisce il sottoscritto ovvero un sindaco di un comune con 500 abitanti quanto percepisce? ebbene la mia indennità mensile è di 200 euro e 91 centesimi netta o lorda? netta 71 euro e 80 centesimi di ritenute l'importo lordo 272,71 la ringrazio buonasera grazie a lei buonasera allora stava aveva fatto questo incipit l'amico sindaco di Montorio che in Germania nei sindicati comuni pic 3000 allora non facciamo il dibattito volevo dire prima allora ci sono state bugie negli anni passati anche nei dibattiti qua in cui si poneva la regione molise con orgoglio al primo posto per la spesa dei fondi europei secondo stavate per perdere i fondi dell'autostrada perché li stavano togliendo sotto al naso e nessuno se ne è accorto insomma cioè una legge che è stata letta per ben tre volte Camera Senato e Camera crede che qualcuno la prima cosa che va va a leggere va bene fondi europei fondi dei terremoti caro assessore non si possono spendere se non si ottiene l'aderogo al patto di stabilità è stato detto in tutte le salle ma ci vuole qualcuno che presenta un emendamento che abbia la forza in aula di portarla avanti abbiamo tutte le ragioni scusa perché in Emilia Romagna è stata pronta benissimo allora assessore l'hai chiamato ma lo è di fatto consigliere delegato prego completi io credo che la regione mulise abbia una delle grandi risorse ancora da spendere l'autostrada da sola abbiamo detto che vale 586 milioni come primo lotto come primo lotto quindi è una pioggia di soldi enorme abbiamo ancora 407 milioni da spendere con i par sono fondi che vanno spesi e che purtroppo la burocrazia fino ad oggi evidentemente li ha rallentati ha frenato la spesa noi questo stiamo su questo stiamo lavorando esatto noi entro il dicembre 2015 dobbiamo rendi contato deve concludere assolutamente poi abbiamo tutta una serie di opere che stiamo programmando con la nuova programmazione è ovvio che il patto di stabilità è un grande freno l'altro giorno a Bruxelles la comunità economica europea ha varato una norma che tutti i fondi strutturali se c'è la compartecipazione dovrebbero essere fuori patto ci auguriamo che questo possa risolvere il problema dei fondi strutturali europei ma la nostra delegazione parlamentare molisana sta lavorando per fare in modo che i fondi del terremoto possano essere tutti fuori patto così come all'Emilia benissimo cavaliere deve essere rapido stiamo purtroppo alla fine deve replicare ovviamente rispetto a questa iniziativa amministrativa del governo regionale sul rilancio di questa regione voi siete disponibili a collaborare lo state dicendo da parecchio tempo è una cosa che diciamo sempre il problema è che questo governo regionale questa maggioranza non viene in consiglio regionale a portare quelli che sono i temi quelli che possono essere stanno studiando probabilmente quello che può essere un impegno di un consiglio regionale dell'intera istituzione nei confronti di un'altra istituzione come forza della come non tocchiamo alcuni argomenti non c'è tempo la storia faccia il bravo per dare maggiore forza a questo governo regionale è fisiologico che poi da parte delle opposizioni quando non si vede un minimo di sinergia che si vuole dare è logico che poi il sottoscritto come fa non dire che il presidente Frattura il governo regionale nomina due direttori generali uno della sanità e uno della regione molise il cui costo arriva a oltre 200 mila euro come si fa a non dire che il presidente Frattura nomina e nominerà persone che sono state nelle liste delle ultime tornate elettorali cose che dichiarava dell'ennesima potenza e negativo non c'è Frattura di studio la prego non c'è il presidente Frattura sto dicendo il senatore non c'è il diretto interessato allora non parlo del presidente Frattura dico che le cose che oggi chiedo scusa senatore dico che le cose che in precedenza questa maggioranza attaccava la precedenza la maggioranza dicendo testa sta facendo tale e quale se non peggio dovreste essere contenti siete nella continuità ma non è questo che vogliono i mori sani non è questo che vogliono i mori sani è stato chiaro io dichiaro per l'ennesima volta rispetto ai problemi grandi grossi ITR solagrital zuccherificio sanità occupazione noi siamo disponibili per una verdura io ho una domanda poi mi deve dire un sì e un no lei e Pinuccio Biscardi Vittorio Nola ci è rimasto davvero pochissimo tempo lei è stata come dire vittima di una vicenda processuale di accuse che le sono piovute addosso parliamo di 12 anni fa 2001 era numero 2 alla telecom è stata accusata di spionaggio abusivo selvaggio fuori legge oggi oggi questa vicenda è andata a buon fine nel senso che a lei è stato riconosciuto tutta la sua innocenza chi lo accusava nello specifico un personaggio di spicco Enrico Bondi il commissario Bondi il risanatore delle grandi aziende in fallimento è stato rinviato a giudizio ce lo posso siderizzare questa vicenda come l'ha vissuta intanto guarda ripercorrere 12 anni è quasi impossibile il mio fegato non ce n'è anche il tempo guarda stasera a Telemolise farò fare un piccolo scoop è tutto riepilogato qui e che va proprio nell'ottica del discorso che facevo prima cioè dell'etica e della legalità dove una grossa causa di disinformazione purtroppo lo fa chi gestisce la comunicazione io le do questo articolo lo possiamo inquadrare un attimo lo mette seduto stai seduto poi me lo prendi allora quest'articolo lo dico pure a beneficio dei colleghi perché quella delle camere eccola a beneficio dei colleghi ecco ce l'ho la zoomata a beneficio dei colleghi questa è datato 21 settembre 2001 ah quest'articolo è stato scritto sul Corriere della Sera ah dal giornalista Sergio Rizzo ah autore della casta noto noi abbiamo parlato di casta molisana ecco io dico per chiudere questa trasmissione tutta basata sulla casta del Molise che a mio avviso casta non è dovremmo solo cercare di lavorare molto meglio insieme come stiamo cercando disperatamente di fare anzi mi auguro che Vincenzo Cotugno inserisca anche gli investimenti strategici sulle dighe del sistema dei consorsi di bonifica che sono pronti i progetti e sono cantierati ci deve dire quell'articolo questo articolo scritto da Sergio Rizzo della casta testualmente ve lo leggo perché è quello che riepiloga tutta la vicenda non tutto basta sì ecco i nuovi responsabili della sicurezza hanno trovato una microspia nascosta nell'abitacolo dell'automobile utilizzata dall'amministratore delegato Enrico Bondi la stessa auto che lo aveva accolto il primo agosto all'aeroporto quando era arrivato da Milano a Roma una grossa ABMV che però non era la macchina di servizio destinata all'amministratore delegato bensì quella in dotazione al potente segretario generale della società Vittorio Nola questa è la sintesi l'indagine durata 12 anni ha ribaltato no ha dimostrato che la macchina non era la mia non era un ABMV era un Audi che si era affittato lui stesso e su cui il responsabile della sicurezza non della Telecom avevano creato questo scandalo tutto addossato alle spalle del sottoscritto ma chi mi ha dato la botta definitiva è stato il signor Sergio Rizzo della Casta che scriveva alla Casta allora la domanda mia è chi ha dato l'informazione è questo che noi chiederemo a Sergio Rizzo esattamente bravo ecco perché le do questo bel le do questo bel messaggio la ringrazio abbiamo rapporti con Sergio Rizzo lo so perché è venuto in Molise è venuto in Molise verrà ancora farei molto volentiero un incontro con lui anche perché tutti e due i nostri governatori hanno avuto l'onore della sua penna allora per una volta possiamo fare due a uno va bene l'impegno l'impegno è preso io ovviamente chiedo scusa ai colleghi del telegiornale a Manuela Petesce vedo già impostazione per il Tg delle 23 siamo andati un poco oltre ma insomma abbiamo dovuto sviscerare un argomento difficile da trattare come quello dell'inderità dei gruppi consigliari e anche del possibile sviluppo ringrazio tutti gli ospiti ringrazio voi e chiedo scusa ai telespettatori che hanno telefonato per intervenire ma davvero non c'è stato tempo come sempre io se lo vorrete vi do appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata di Moby Dick grazie e buonanotte grazie a tutti